I coloranti che si utilizzano per tingere i capelli o le sostanze per fare la cosiddetta permanente o ancora i coloranti, le sostanze utilizzate per fare i tatuaggi rappresentano un rischio per la nostra salute. In particolare possono causare l'insorgenza di tumori ematologici. Anche di questo si è parlato nel corso del convegno nazionale di AIL dal titolo Curare e prendersi cura, impatto ambientale, rischio sanitario, benessere e stili di vita. Abbiamo girato queste domande ad un ematologo per capire come stanno le cose. Malattie onco-ematologiche, stili di vita e ambiente. Che cosa sappiamo oggi dalla ricerca? La ricerca ci dice innanzitutto che c'è una relazione stretta, interdipendente tra quello che è la contaminazione dell'ambiente, tutto quello che c'è nell'aria, tutto l'inquinamento chimico, pesticidi eccetera, e poi quello che c'è nel suolo che quindi va a finire sulla nostra tavola e quindi implica molto quello che noi mangiamo e quindi anche lo stile di vita, l'aumento del peso corporeo, le abitudini con scarsa attività fisica eccetera. Questo è importantissimo e poi ci sono delle abitudini fondamentali che noi abbiamo che possono incidere associato a quello poi che l'ambiente ci propina con un inquinamento ambientale, come per esempio il fumo, come il consumo di alcol, l'uso di altre sostanze chimiche che noi aggiungiamo, ma anche alcuni comportamenti banali, tipo in cucina, il materiale plastico per conservare gli alimenti che poi magari mettiamo nel fondo a microonde, anche questo incide molto perché libera le sostanze chimiche che poi ci alimentiamo, delle quali poi ci alimentiamo insomma. Quindi c'è una netta interdipendenza. Noi con lo stile di vita possiamo chiaramente diminuire questo rischio, diminuendo il contatto e l'ingestione delle sostanze chimiche che sono dannose per la salute e provocano il cancro. In alcuni casi, alcuni studi provocano un aumento dell'incidenza, del rischio di sviluppare linfomi. Ecco, a proposito di cattive abitudini, nella sua relazione al convegno dell'AIL si parlerà anche dei rischi collegati all'utilizzo dei coloranti per i capelli. Anche qui le chiedo che cosa sappiamo dalla ricerca? È molto contrastante. Infatti farò vedere alcuni lavori che dicono che questa relazione non c'è. C'è nell'ambito professionale perché sicuramente insieme a chi lavora in sostanze chimiche, gli agricoltori, i parrucchieri hanno un'incidenza nettamente aumentata di sviluppare linfomi. Per quanto riguarda il consumo, tra virgolette diciamo così, voluttuario, se lo possiamo definire così, ci sono dati contrastanti nel senso che alcuni dati dicono che c'è questa relazione, questo incremento e altri no. Ma soprattutto possono incidere, se io ho una malattia ematologica per esempio, dove fare un trattamento e uso coloranti i capelli, si sommano i due rischi e quindi in quel caso c'è un incremento. Una possibilità di morire quantitativamente maggiore, più alta rispetto a chi non usa i coloranti i capelli. Per essere chiari, per chi ci sta seguendo, quindi andare dal parrucchiere a fare la tintura è, diciamo, pericoloso? Sarebbe meglio evitarlo o scegliere prodotti più naturali? Io raccomando le signore di una certa età, a parte il fatto che adesso è molto cambiato l'atteggiamento della moda, delle signore, perché vedo un sacco di amiche mie in città, quelle cittadine diciamo, usano più non colorarsi, i capelli sono bianchi e quindi sono belle lo stesso le donne. Però a prescindere da questa considerazione, sicuramente chi usa, c'è un epidemiologo americano che ha fatto proprio uno studio, la razza, il numero delle permanenti che si è fatto durante l'anno, il tipo di colore, se usi il nero rispetto ad altri colori, correlano e quindi si può stratificare una popolazione che ha un rischio maggiore. Ok, e sempre diciamo nell'ambito dell'evolutualità o comunque dei comportamenti, lei parla anche dei rischi collegati ai tatuaggi, quindi sempre di coloranti sull'uso, in questo caso sulla pelle. Che cosa ci dice la scienza? E lì non solo coloranti, una miscela di sostanze chimiche, oltretutto, oltre che la sostanza in sé, anche del veicolante che permette. Poi non c'è una regolamentazione, tutti i tatuatori non usano magari tutte le etichettature, tutte le normative che l'azienda italiana del farmaco prescrive. E quindi molto è lasciato all'individualismo professionale, che non è corretto innanzitutto. Non c'è relazione con la superficie del tatuaggio, però sicuramente i nitro derivati che si liberano dall'iniezione sottocutanea, che poi non rimane soltanto a livello cute e sottocute, perché poi penetra nel sistema, nel derma, nel sistema linfatico, i linfonodi, che sono i primi a ricevere l'inchiostro praticamente, hanno una reazione infiammatoria. Questa reazione infiammatoria chiama cellule che possono attivare, magari più in là, un meccanismo leuchemogenetico oppure linfomogenetico. Quindi il rischio esiste.